Eccomi Ma non c'è stato, ma non c'è stato, ma non c'è stato Cioè, gira sulla sedia a fare sta prostituzione Che è magica, o dovrei dire Magica Com'è stato? Tutto bene? Io sto bene, però tu pare che stai male Ma male lì è proprio Oggi una intera lezione di accorsiamo Che emozione, guarda mi sono venuti i brividi Ho la pelle d'occhio Comunque sto dando un attimo una controllatina Al tuo cervello? Alle vecchie lezioni Ah, le vecchie lezioni, ah, è così Siete stati tutti bravi Grazie, prof, ma che torno a casa Lo dico a mamma, sarà fiera di me A parte Simone E chi è Simone? E che non mi ha convinto al 100% Simone, non l'hai convinta al 100% Ma al 99%, capite? E gli ho messo un 5 Simone, ma tieni 5 in corsivo Ma non ti metti squarno Devi duettare il video E ripeterò dopo della prof Va bene, prof La parola di oggi è Geometria In corsivo si dice Geometria Geometria Vai E sono andato Geometria Avvicina a me Prego No, 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 assolutamente no Simo, e tieni ragione che non studi Che sto sbatto? Ma che sto sbatto a fa? Hai visto? Sto sbatto sana sana Sto sbattitrice a questi video La seconda parola è spagnolo In corsivo Si dice Spagnolo Spagnolo Parola che sono schifata dalla vita Ma che è? Oh, e l'ho detto Ma che si è buggata? Mmm, c'è stata abbastanza brevi E no Parga mi sta facendo in un favore Cioè ma tutto a posto Io non lo so Potresti migliorare però Sto facendo lezioni apposta prof Cioè non vorrei dire Stavo facendo lezioni di corsi Che facciamo a fare? No ma migliorò Se no ne facevo le lezioni Facevo direttamente il professore No? Un applauso per mister ovvio Lo facciamo un po' più complicato Una frase Ahè, ma la frase Con le parole mi dici No, no, potresti migliorare Figurati un po' con la frase Prof è la migliore In corsivo si dice Prof è la migliore Prof è la migliore Ma devo fare pure quelle mosse io Vabbò ogni tanto si stacca internet E si impalla il cervello della prof Cioè t'apposto Tutto è la norma Lo faccio Prof è la migliore Dai Più o meno Dai più o meno Cioè io mi impegno così tanto E lei mi dice Dai più o meno Mamma devi venire a scuola Perché c'è la professoressa di corsivo Che mi demoralizza E chi è questo? Te ne riesci a anno Ho corsivo Non stavo parlando italiano Ho parlato corsivo Ma fammi piacere Vai mamma Ti voglio bene Guai la prima volta che mi protegge Che è successo? Mi raccomando Perché questa frase Voglio sentirmela dire spesso E ti faccio sentire Buono Ti faccio sentire Sta generazione di oggi Che si vende su Luca Cato Ma va a studiare A prof e corsivo Ma va a fagù Mamma calmati Io sono calma Sta cosa Vicino a mio figlio Dice che può migliorare E poi a Simone Ci mette cinque Cinque Ma chi si creerà E adesso Dammi la mazza Mamma no Ti ha detto dammi la mazza Oh mamma mia aiuto Musica Musica Grazie a tutti